Potrebbe essere stata svelata la data di uscita del secondo trailer per quanto riguarda Spider-Man No Way Home. Recentemente un presunto dipendente, o almeno così si definisce, della catena cinematografica Regal, ha spiegato di aver organizzato il pre-show di Eternals scaricando i vari file del server da inserire prima della proiezione del film. Questa persona dice di aver trovato un filmato senza titolo, avviene spesso nei cinema a suo avviso, dove possiamo leggere 25 ottobre 2021 con una durata di 3 minuti e 33 secondi. Potenzialmente potrebbe trattarsi proprio del secondo trailer di Spider-Man No Way Home. Ovviamente per il momento sono solamente speculazioni, ma potrebbe essere un indizio chiaro. Anche perché poco dopo questa notizia, proprio un fan ha fatto questa domanda a Daniel Richman, che per chi non lo sapesse è un insider veramente molto importante. Anche prima del primo teaser trailer aveva dato la giusta data, scusate, la ripetizione di parole del giorno in cui sarebbe uscito il primo teaser trailer, ovvero Daniel Richman, che ha detto e ha spiegato che il nuovo trailer uscirà o nel corso di novembre oppure a fine di questo mese. Quindi lunedì 25 ottobre, dato da questa persona, potrebbe essere essenzialmente reale. Anche perché, se notate bene, i film del Marvel Cinematic Universe, anche se questo è Sony, ma ovviamente ragazzi fa parte anche del Marvel Cinematic Universe Spider-Man, escono prevalentemente i lunedì. Quindi questo 25 ottobre, che è di lunedì, potrebbe starci tantissimo. Inoltre, la durata di 3 minuti e 33, come secondo trailer, anche esso ci potrebbe stare tranquillamente. Quindi voi fatemi sapere nei commenti un po' che cosa ne pensate, se credete che il secondo trailer potrebbe uscire effettivamente alla fine di questo mese, l'ultimo lunedì di questo mese. Inoltre vi invito ad iscrivervi al canale, perché mi farebbe molto piacere un vostro supporto, qualora vi sia piaciuto questo video, qualora vi piacciono i contenuti che porto e come li porto. Detto ciò, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!